anzi l'ha morso perché l'ha bucato le denti piccolo piccolo luco subisco tutto io subisco guardi il ruento lui vero eccolo farò saltare la pelle e bibi non lo fare abbaiare vai vai a prendere la pelle a saltare vai vai un po' durante 150 anni questo è il sugiato l'ho preferito una molla bravissimo non c'è qualcosa non c'è qualcosa non c'è qualcosa dai accesso hai 469 euro Ciao.